Continuano ad aumentare i contagi nel Vesuviano. Gli ultimi dati non sono incoraggianti e l'ASL Napoli 3 Sud annuncia un potenziamento del Covid ospite alla Bosco Trecase. Sette nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nella giornata di ieri a Torre del Greco, di cui sei in forma sintomatica ed uno in regime ospedaliero. Registrata anche una guarigione, che porta a 130 il numero totale di guariti dal Covid dall'inizio della pandemia. Sale invece a 40 il numero di attualmente positivi che si trovano in isolamento domiciliare, così come il numero di ospedalizzati che sale a 4. Sette nuovi positivi anche nel comune di Portici, dati aggiornati però al 12 ottobre, come spiega il sindaco Vincenzo Cuomo nella diretta Facebook di ieri. I flussi di comunicazione sui nuovi positivi provengono dal Dipartimento Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, ma non risultano essere costanti. Il primo cittadino lamenta infatti una gestione vergognosa dell'emergenza e chiede nuove soluzioni. È una gestione assolutamente vergognosa. Sto cercando ripetutamente di parlare, anzi ci ho parlato, ho parlato più volte col direttore generale dell'ASL Napoli 3 per chiedergli di cambiare il sistema di gestione perché quello là che hanno adoperato non funziona. Sono in totale 42 gli attualmente positivi a Portici. Continua l'attività di screening anche a San Giorgio a Cremano con il sindaco Giorgio Zinno che in diretta Facebook fa un punto della situazione. La cosa fondamentale è cercare di non perdere mai la calma, di non dare false notizie. Chiedo ai ragazzi che specialmente sono 16 anni, 17 anni in questo caso, responsabilità significa anche cercare di non bloccare la casella del sindaco mandando messaggi fasulli. Abbiamo notizie certe, le dobbiamo governare e far sì che tutti quanti abbiano la possibilità di potersi curare e essere sicuri che non ci siano contagi interni alla scuola. Dati aggiornati al 13 ottobre con 19 nuovi positivi registrati in un'unica giornata. È totale degli attualmente positivi che sale a 47. Un caso di positività anche al Comune che resterà chiuso fino a lunedì. Nel frattempo gli addetti ai lavori verranno sottoposti a tampone. A Castellammare di Stabbia sono 5 nuovi casi registrati il 13 ottobre. 3 di questi presentano sintomi febbrili e 2 sono asintomatici. Sale quindi a 92 il numero dei tuttora positivi. Numeri che vanno ad aggravare la situazione già critica al Covid Hospital di Bosco Trecase, dove i posti letto sono quasi saturi. 47 quelli ordinari occupati su 54, 15 su 20 subintensiva e 5 su 13 in terapia intensiva. A preoccupare, sottolinea il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, è la situazione dei ricoveri ordinari. Tuttavia i vertici dell'azienda annunciano un potenziamento imminente della struttura ospedaliera. Si punta ad arrivare a circa 90 posti ordinari, ampliando anche i posti in subintensiva che dovrebbero diventare 25.